il 2019 è stato un anno molto importante abbiamo festeggiato il 25esimo anno di fondazione in italia nella nostra associazione ed è stato un momento nel quale abbiamo anche preso delle importanti decisioni per cambiare un pochettino il nostro asset organizzativo e la nostra struttura siamo ormai arrivati a 70 aziende aziende che crescono ogni anno dal 2015 ad oggi abbiamo aumentato del più del 50 per cento il numero dei nostri soci questo è molto importante è un segnale di quanto le tecnologie che rappresentiamo profibas profinet e io link siano importanti per le aziende italiane e per il mercato italiano sono tecnologie che subiscono parecchie innovazioni se pensiamo ad esempio a profinet profinet è già pronto per andare a parlare di tecnologie quali tsn esiste già la specifica 2.4 di profinet che consente l'utilizzo di reti tsn per comunicare in profinet anche se oggi un vero e proprio standard tsn per l'industrial automation non è ancora stato completato per quanto riguarda altre evoluzioni tecnologiche abbiamo ad esempio evoluzioni legate più più orientate al mondo del processo pensiamo ad esempio all'utilizzo di ethernet anche in zone a rischio esplosione questo sarà possibile con profinet tramite il nuovo advanced physical layer cioè la nuova specifica di ethernet che consente di utilizzare ethernet anche tramite due fili diciamo non più a 4 8 fili ma semplicemente due fili che portano oltre al segnale ethernet anche l'alimentazione dello stesso nonché altre novità tecnologiche ad esempio novità legate all'ambito security cyber security molto importanti sono delle evoluzioni che stanno avvenendo nelle specifiche profinet che consentiranno di poter avere anche una firma digitale ad esempio del file descrittivo dei nostri dispositivi che si chiama gsd e che mi consente di far sì che un sistema di progettazione un sistema di ingegneria sia in grado di rilevare l'utilizzo all'interno della propria rete di dispositivi che utilizzano dei file gsd che non sono certificati che non sono approvati a livello internazionale questo è un'arma in più per poter identificare ad esempio l'utilizzo di oggetti o l'intromissione di oggetti all'interno della mia rete che non siano autorizzati in ambito sempre security noi abbiamo ormai definito delle delle linee guida per l'utilizzo e l'implementazione di misure di cyber security a livello di reti ethernet ot e sono già disponibili comunemente sul nostro sito si possono andare a scaricare per quanto riguarda le altre tecnologie detto che ovviamente profibus è da anni un leader indiscusso di mercato e tuttora continuiamo a vendere più di 2 milioni di nodi di profibus al mondo è importante dire parlare ad esempio dell'ultimo nato dell'ultima arrivata della nostra famiglia che è la tecnologia io link che è una tecnologia per interconnettere in maniera digitale apparecchiature bordo macchina quindi sensori attuatori e che mi consente di andare a implementare funzionalità aggiuntive quale diagnostica parametrizzazione manutenzione configurazione dei dispositivi proprio in maniera digitale non semplicemente collegamento di un cavo un segnale 4 20 mila ampere o 0 5 volt che sia io link anche lui sta subendo parecchie aggiornamenti parecchie modifiche sono già disponibili delle versioni io link wireless per connettere sensori in wireless a proprio controllore piuttosto che io link safety per poter andare a comunicare in maniera sicura tra i sensori che sono il fungo classico fungo d'emergenza e il controllore che gestisce la sicurezza della macchina le ultime arrivati in ambito io link sono l'aspetto legato al opc way ad esempio quindi la possibilità di avere dei gateway io link opc way che mi consentono appunto di trasmettere quello che si chiama sensor to cloud quindi inviare il senso il dato direttamente dal sensore fino volendo al cloud e la possibilità di utilizzare ad esempio quello che è parlavamo prima quello dell'eternet a due fili come mezzo trasmissivo per poter realizzare la comunicazione tra il sensore e il controllore questa cosa dell'utilizzo di ethernet il single per ethernet è una novità degli ultimi settimane stiamo partendo con la discussione la definizione delle modifiche delle specifiche è una cosa che verrà realizzata nel prossimo futuro però sicuramente sarà una novità importante che impatteranno un poco sull'ambito io link per quanto ci riguarda